...tocca a due persone che diventeranno gli uomini pieni di cacca, gli altri attenti. Chi viene toccato non si facesse scoprire agli altri, anzi deve fare finta di niente. Chi mette il pannolino a Giovanni? Chi mette il pannolino a Giovanni? Luca? Mettili il pannolino! Salvo Giovanni! Toccato! Toccato! Chi stai? Ehi, pannolino, pannolino! Martina, mettili il pannolino, Martina! Scusate! e lui pieno di cacca fuori dal campo con le gambe divaricate chi è stato buttato Martina fuori con le gambe divaricate aspettate che vi salvano vediamo chi li salva a questo bravo salvo Luca Martina salva Martina